un caffè siete gemelle gemelle in realtà siamo molto diverse voce mms internet giochi ricarico cellulare poste pay ci faccio i bonifici e ora pago anche bollettini postale ma che cos'è scopri la differenza è tutta qui nella mia sim poste mobile unica e conveniente per tutti la sim poste mobile con banco posta ti semplifica la vita in uno ci ho messo la sim poste mobile così lo riconosci chiedi nel tuo ufficio postale